Eccoci qua popolo di Youtube con un video di spacchettamento di Yu-Gi-Oh! Come avete visto in copertina, oggi apriamo ben 4 bustine di distruttori dell'ombra Ben 6 bustine di vittorie duellanti E ben 6 bustine di dimensioni del caos Quella di qua che bella E andiamo in modalità Yu-Gi-Oh! Prima bustina di distruttori dell'ombra Dino Foschia e Plesius Score la Diva Melodiosa Artistamico Impermeabil Capra Poi abbiamo una rara Mago Spezza Tempo Uuuuh! Una super e una ultra rara Latina Cosmo Drago Confronto Lampo Spada della Distruzione Segui Ala E Al Lumi Raya Bella questa, carina Seconda bustina Samurai Super Pesante Magnete Samurai Super Pesante Generale Giada Dino Foschia e Plesius Combattente delle Lame Thun Una rara Maga Sintonizzatrice Una super rara Poi Segui Ala Doriado Nero Ai Gaio La Fortezza Marina Bustina E poi Uragano Artistico Terza bustina Artistamico Carte Ragazza Combattente Stregone Spada della Distruzione Artistamico Poi abbiamo una rara Iiziquiro Iiziquiro il Daichu Distruttore di Stelle Uuuuh! Una ultra rara Neptabis Il Principe Atlantico Corsa Dino Foschia Al Accusato per Sbaglio E poi Dexbot 007 Quarta e ultima bustina Incisore del Marchio Artistamico Carte Ragazza Nikri Ninja del Crepuscolo Il Chunin Dino Foschia Ceratops Artistamico Chitar Taruga Una rara E poi abbiamo trovato Una super rara Drago Furia Chimera Tech Guardate che bella Karma del Soldato Spada della Distruzione Squarcio della Rondine Stile Shira Nui E poi Corsa Dino Foschia Allora le rare Queste qua Valgono tutte 2 euro Le super rare La maga 4 euro E il Drago 4 euro E le ultra rare Abbiamo trovate solamente 2 La tina costa ben 15 euro E invece il Principe Atlantico Ne vale 15 Anche questo Ora apriamo le 6 bustine di Vittorie Brillanti Fortissimo Ride Raptor Booster Streak Protettore con gli occhi blu Poi abbiamo una rara Alza Rango Magico Forza Salto Stiamo di qua E poi abbiamo trovato una ultra rara Arci Demone Drago Rosso Rovente della Calamità Bello Bello Poi un Dexbot 009 Base Dexbot Ryu Okami Dino Foschia Spinos Seconda bustina Tigre della Luce Lunare Richiamo del Bianco Lupo della Luce Lunare Una rara Fusione Targhetta E poi abbiamo trovato una ultra rara Drago Spirito del Bianco Bug Digitale Bozzo il Condensatore Ghendo il Monaco Ascetico Meraviglia XYZ Alzarsi a piena altezza E basta Terza bustina Emergenza Bug Tigre della Luce Lunare Matrice dei Bug Lupo della Luce Lunare Artist Amico Occhi Diversi Fenice della Luce Una rara E poi dopo Abbiamo trovato una super rara Drago Toon Occhi Rossi Dino Foschia Spinos Campione del Mondo Peso Carota Campione del Mondo Peso Carota Non ci posso credere Vaglia roba Ok Poi abbiamo un Kuben Quarta bustina Fortissimo Pecora Nera della Luce Lunare Protettore con gli occhi di blu Tigre della Luce Lunare Amorphagon Invidia E poi abbiamo Poi abbiamo una super rara Alla Nera d'Assalto Chidori la Spruzzata di Pioggia Gendon il Monaco Ascetico Kuben E infine Base Dexbot Quinta e penultima bustina Matrice dei Bug Rabdator Fortissimo Oh una rara Re Tuono Il Kaiju Colpo di Fulmine Poi dietro abbiamo Una Abbiamo trovato una ultra rara Drago Divino Surf Polvere di Stelle Guardate che bello Bug digitale Bozzo Condensatore Meraviglia XYZ Isola del Re del Fuoco Pessima Mira Sesta E ultima Bustina Artist Amico Conchiglia del Cancro Protettore con gli occhi di blu Emergenza Bug Scusate Alta Velociroi Puzzle E una rara E poi abbiamo trovato Una super rara Prepreparazione Dei Riti Base Dexbot Ryu Okami Dexbot 009 E infine Isola del Re del Fuoco Allora Le rare Questa Vale Un euro Questa Due 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 euro Due euro Anche questa E fusione Targhetta Tre euro Allora Super rare Allora Dragotun Tre euro Alla nera Quattro euro E preparazione Dei Riti Quattro euro Ultra rara Arcidemone Costa Sette euro Drago Spirito Del Bianco Quindici E Drago Divino Quindici Ora apriamo Sei bustine Di dimensioni Del caos E in queste qua Possiamo trovare Anche la ghost La mia prima ghost Però La vedo dura Di trovarla In un agosto In sei pacchetti In sei bustine Molto dura Passiamo in modalità Yu-Gi-Oh E qua Abbiamo la nostra Prima bustina D, D, D Cambio di contratto Anima del super soldato Missione di cattura Kaiju Reticuliano Cobra Abbiamo una rara Abile mago rosso Samurai super pesante Anima corna Un cosmo Spada laser Artista magus Fuoco peluche Contratto scuro Con la strega E basta Seconda bustina Oh Cosa è successo qua? È rovinato Rovin Tagliata Diciamo passato Col taglierino Ma non mi sono accorto Quando ho preso la bustina Perché li ho qua Da una vita E non Sì vedete C'è il segno Anche della bustina Non ho proprio idea Vabbè ma Non è un problema Cosmo il malvagio strega Riciclaggio Di contratto DDD Cambio di contratto Poi abbiamo Un bellissimo Artist amico Secondo asino Eeeh Poi guardate Qua Cosa abbiamo trovato Una ultra rara Glorioso Soldato nero Super Soldato Mamma Che bella Beeeella Non varrà Non so quanto valga Dopo vedo Però È bellissima Bellissima Mamma che bella Mamma che bella Mamma che bella E poi torniamo Con le normali Reticuliano Alligatore Tempesta Mesto spettro Mesto spettro Corvoiata Ali Fluffal E basta Andiamo con la Terza Bustina DD Sapiente Keplero Lama Psichica Samurai Super Pesante Ladro Un Rhybridator Avoltoio Selvaggio Poi abbiamo Una rara Alza Rango Magico Forza Del ride Del ride E poi Maestro Spettro Corvoiata Dex Bot Jet Samurai Super Pesante Anima Corna E infine Tempesta Andiamo con la Quarta Bustina Fuoco Cavaliere Veterano DD Sapiente Keplero Rabdat Avoltoio Selvaggio Samurai Super Pesante Ladro Artist Amico Spruzza Mammoth Una rara E dietro Niente Impatto Reticuliano Cosmo Spada Laser Tempesta Maestro Spettro E un Contratto Oscuro Con la Strega Quinta E penultima Bustina Speriamo di trovare Qualcosa In queste qua Mi hanno trovato Ben poco Ben poco Fuoco Cavaliere Veterano DD Melma Molinello Maestro Spettro Volpe QB Artista Magus Direttore Specchio E poi Abbiamo Una rara Cavaliere Samurai Di Reptior Dietro Un Ali Fluffal DDD Risorse Umane Reticuliano Aquila Cos'ha la Caviglia Che ha E poi Rabdator Aquila Teschio Sesta E ultima Bustina Speriamo bene Abbiamo trovato Soltanto Una Ultra Rara Soltanto Una Una Che schifo Questo invece Ormai Qua è il fenomeno Fuoco Cavaliere Divisione Reticuliana DD Melma Molinello Poi abbiamo Un bello Samurai Super Pesante Ladro Un Curib Sfera E dietro Dietro Corali Arma Raptor Massima Contratto Oscuro Con il Portale Tempesta Messo Spettro E abbiamo Finito Allora Le rare Cavalleria Un Euro Curibo Un Euro Abile Mago Rosso Un Euro Questo Bellasino Vale Due Euro Il Mammut Vale Due Euro Alza Rango Magico Due Euro E per fortuna Abbiamo trovato Questa Che vale Dieci Euro Non è Poteva andare Molto Molto Meglio Ma Molto Meglio Poteva andare Vabbè Spero vi sia piaciuto Questo spacchettamento Di Yu-Gi-Oh Non è andato a paro Malissimo Ma Vabbè Speriamo di rifarci Nel prossimo Video E Sottrovate Link Instagram Facebook Twitch Sprecciate Fate così Fate come volete Lasciate like E Bella